Ora si registrerà la conferenza. Allora, buongiorno a tutti. Direi che possiamo partire, poi se si aggiungerà qualcuno in Ettinere, semmai vedremo di fare magari un breve riassunto. Allora, come vedete dallo schermo, oggi tratteremo un tema che nell'ambito dei nostri GeoBreak non è ancora stato, diciamo, toccato, che è quello dei dati satellitari e delle immagini telerilevate. In particolar modo oggi ci occuperemo delle immagini Sentinel-2 e in particolar modo il loro utilizzo e trattamento all'interno di QGIS. Perché le immagini Sentinel-2? Beh, perché sicuramente sono innanzitutto tra i dati ottici spaziali che meglio conosciamo. Banalmente sulle immagini Sentinel-2 io ho impostato tutto il mio dottorato di ricerca. E poi perché sicuramente sono un tipo di dato che negli ultimi tempi stanno avendo una diffusione molto vasta e soprattutto per le loro caratteristiche si prestano appunto a svariati utilizzi. In particolar modo oggi ci occuperemo appunto di questo tipo di immagini, vedremo insomma le principali caratteristiche ehm sia della missione che dei dati ehm cercheremo di capire come scaricarli essendo appunto dati gratuitamente distribuiti eh vedremo appunto un po' di eh soluzioni possibili per lo scaricamento dei dati. ehm i plug-in, i principali plug-in che sono stati sviluppati per QGIS proprio per il trattamento di questo tipo di immagini e poi entreremo già ehm diciamo un po' più nella nell'elaborazione, nell'analisi di di queste immagini quindi vedremo appunto un po' quelle che sono le le operazioni preliminari le 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 prime diciamo eh le prime cose che si possono fare eh per arrivare poi probabilmente in un in un altro geobreak a invece analisi decisamente più più elaborate e più più complesse. Come come sempre poi diciamo nella struttura dei nostri geobreak lasceremo poi una parte invece mh per insomma per parlare insieme per discutere insieme rispondere a eventuali domande e vostre vostre curiosità. Partiamo subito da i dati Sentinel 2. Sentinel 2 eh magari molti di voi già lo sapranno è una missione ottica multispettrale che fa parte di un molto più ampio programma spaziale che è il programma Copernicus che è stato dicendo che è gestito ehm e coordinato dalla Commissione Europea e dall'Agenzia eh spaziale europea quindi dall'ESA. Eh Copernicus è appunto come vi dicevo un programma decisamente più ampio perché eh di fatto eh include circa sei sei missioni direi anzi sei più una in realtà eh tra cui abbiamo appunto Sentinel 1 che è un SAR e che è attualmente in funzione in orbita abbiamo appunto la missione Sentinel 2 che si tratta di una missione ottica multispettrale anch'essa già in orbita e poi abbiamo le eh i Sentinel 3 anch'essi già in orbita e che ehm sono una missione appunto multisensore nel senso che ehm i satelliti hanno a bordo sia eh sensori ottici multispettrali ma anche sensori termici e poi per il futuro ovviamente è programmato il lancio di altre missioni come Sentinel 4, 5 e 6. Sentinel 2 attualmente appunto come vi dicevo è già stato è operativo oramai da da un po' di da un po' di tempo e essendo una missione ottica multispettrale di fatto quello che arriva a noi utenti sono appunto immagini ottiche le cui caratteristiche e quando parlo di caratteristiche parlo banalmente di numero di bande disponibili ehm le lunghezze d'onda ehm in cui diciamo viene ehm insomma viene catturata l'informazione e eh la risoluzione spaziale ad esempio il tempo di ritorno eh di questa missione rende appunto le immagini Sentinel diciamo particolarmente adatte a tutta una serie di applicazioni che si eh focalizzano soprattutto su il monitoraggio del del territorio ma anche il monitoraggio delle coste e eh e del mare eh questa missione nasce proprio con lo scopo poi di dare anche continuità ad altre missioni eh già già operative come ad esempio Spot e e l'Ensat un po' di caratteristiche tecniche della missione eh si tratta innanzitutto di una costellazione di satelliti diciamo gemelli abbiamo infatti un Sentinel 2A e un Sentinel 2B che sono stati rispettivamente lanciati nel giugno del 2015 e nel giugno del 2017 i due satelliti sono di fatto identici quindi hanno le stesse caratteristiche eh soprattutto a livello ovviamente di di sensore quindi di conseguenza le stesse caratteristiche poi le ritroviamo ovviamente nell'immagine che viene messa a disposizione dell'utente i due satelliti della missione Sentinel 2 viaggiano su un'orbita eliosincrona ciò vuol dire che di fatto il satellite segue il percorso del sole motivo per cui di fatto le immagini Sentinel sono per qualsiasi punto della superficie terrestre insomma quantomeno dell'estensione coperta dai satelliti sono prese durante le ore diurne e tendenzialmente più o meno alla stessa alla stessa identica ora eh cioè il passaggio su un punto del del satellite avviene grosso modo alla stessa ora eh abbiamo un tempo di ritorno eh di circa cinque giorni all'equatore che quindi risulta poi in circa due o tre giorni a medie latitudini e ad esempio sull'Italia tendenzialmente abbiamo effettivamente un'immagine ogni ogni due o tre giorni ad esempio e ehm come già vi anticipavo mh vabbè al di là appunto dell'estensione geografica che è compresa appunto fra le latitudini eh cinquantasei sud e ottantaquattro gradi nord abbiamo a bordo un sensore ottico moltispettrale capace di fatto di ehm registrare informazioni su tredici canali dello spettro elettromagnetico che vanno dal visibile al vicino infrarosso fino all'infrarosso a onde corte ehm soprattutto queste ultime bande diciamo che rappresentano un un po' una novità rispetto ad altre missioni come ad esempio l'ENSAT e soprattutto danno un notevole valore aggiunto soprattutto per tutta una serie di applicazioni ehm abbiamo risoluzioni spaziali diverse a seconda ovviamente del diciamo della lunghezza d'onda della banda quindi andiamo dai dieci metri di risoluzione spaziale quindi pixel di fatto di dieci per dieci metri per le bande del visibile quindi l'RGB e per il vicino infrarosso bande di eh venti metri invece scusate bande di venti metri eh risoluzioni spaziali di venti metri per eh tutta una serie di bande sempre in corrispondenza del vicino infrarosso o dell'infrarosso a onde corte e poi abbiamo eh tre bande principalmente a sessanta sessanta metri di risoluzione che sono diciamo le bande dedicate maggiormente ad analisi di tipo atmosferico i dati ovviamente registrati dal dal satellite subiscono poi tutta una serie ovviamente di trasformazioni prima di arrivare di arrivare a noi che siamo diciamo gli utenti finali ok eh tutta questa serie di operazioni ovviamente fa parte di una processing chain che viene completamente gestita eh da da insomma da dall'agenzia eh spaziale e in particolar modo da questa processing chain vengono diciamo eh dati in output come output tutta una serie di prodotti con caratteristiche molto diverse abbiamo ad esempio il mh il livello zero e il livello uno a che si trattano ancora di dati che potremmo definire grezzi che vengono semplicemente eh compressi o decompressi abbiamo un livello uno B ehm dove vengono applicate ad esempio le prime correzioni radiometriche e questi sono tutti prodotti che l'ESA non mette a disposizione degli utenti quindi che non possono essere diciamo eh scaricati gratuitamente abbiamo invece due prodotti di fatto che sono quelli che poi noi utenti possiamo utilizzare che sono il livello uno C e il livello due A quali sono le caratteristiche di questi prodotti allora innanzitutto il livello uno C fornisce immagini radiometricamente geometricamente corrette quello che diciamo rimane da correggere nelle immagini del livello uno C sono ad esempio i disturbi atmosferici eh le immagini del livello uno C infatti non sono ehm corrette dal punto di vista atmosferico abbiamo quindi ancora quella componente di disturbo data appunto dall'atmosfera tanto che infatti i ehm i valori eh associati diciamo alle nostre immagini quindi ai pixel vengono proprio definiti eh riflettanza diciamo al di sopra dell'atmosfera no top of atmosphere ehm sono immagini orto rettificate e georiferite in un sistema di riferimento proiettato tendenzialmente il WGS 84 UTM per l'Italia 32 o 33 a seconda del fuso naturalmente e sono di fatto delle tile di cento chilometri per cento chilometri di estensione eh la differenza con livello due a qual è? Il livello due a è un ulteriore diciamo passo in avanti un ulteriore upgrade delle nostre immagini di fatto deriva da un ulteriore processamento del del livello uno C al quale viene di fatto applicata la correzione atmosferica altri tipi di correzioni come correzioni topografiche correzioni ehm ad esempio sulla presenza di eventuali cirri e foschie e insomma disturbi di questo tipo come per il livello uno C siamo sempre abbiamo sempre un'immagine comunque orto rettificata georiferita sempre in sistema di riferimento proiettato e sempre con la medesima estensione ehm questa volta però appunto i valori essendo corretti dal punto di vista atmosferico si dice essere appunto in riflettanza al di sotto dell'atmosfera quindi bottom of atmosphere di fatto mh il livello due a non è altro che il livello uno C corretto quindi dal punto di vista appunto di di estensione geometrico e insomma e altre caratteristiche abbiamo esattamente lo stesso tipo di dato questi due prodotti sono messi a disposizione dell'utente e sono gratuitamente scaricabili ecco qui nell'immagine vedete un po' una differenza no? tra il livello uno C e il livello due A quindi di fatto noi abbiamo proprio la 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 stessa porzione di immagine eh semplicemente nel livello uno C abbiamo di fatto questo no? in inglese si dice un po' questo bluish grish eh eh effect cioè questa sorta di eh velatura un po' bluastra e opaca data appunto dal disturbo atmosferico cosa che invece non non ritroviamo assolutamente eh nel livello due A che è stato appunto corretto scusate nella nella didascalia noto adesso che c'è un refuso ma è due A non uno A quindi stavamo dicendo che tutti questi entrambi questi prodotti sono eh scaricabili da noi utenti dove posso scaricare questi dati posso ovviamente scaricarli da ehm il scientific data hub di di esa e che altro non è che un portale per il quale ovviamente è richiesto però un un account dal quale ovviamente posso impostare tutta una serie di parametri per la ricerca tra cui appunto l'estensione della zona di mio interesse posso ovviamente da qua scaricare non solo i dati di senti nel due ma anche quelli delle missioni già in atto quindi senti nel uno e senti nel tre eh posso fare una scrematura per per data quindi andare esattamente a cercare le immagini del periodo di mio interesse e posso eh decidere appunto se scaricare ad esempio le immagini del del livello 1c piuttosto che del livello 2a inoltre ehm un altro parametro diciamo che 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 è abbastanza utile è appunto quello sulla percentuale di copertura nuvolosa come probabilmente sapete i sensori ottici non sono infatti in grado di penetrare le nuvole ad esempio a differenza di un SAR quindi eh uno dei diciamo dei problemi sempre un po' aperti per questo tipo di di immagine in particolar modo per senti nel due è appunto la se la la presenza di di nuvole che possono appunto in giornate anche particolarmente diciamo uggiose possono ricoprire buona parte dell'immagine di vostro interesse una volta diciamo che avete eh impostato i vostri parametri di fatto il il sito vi insomma vi mostra tutte le le tile disponibili insomma che che rispondenti alla vostra ricerca e a quel punto siete sta diciamo all'utente scegliere che cosa che cosa scaricare quando viene scaricata una di queste di queste immagini di fatto viene scaricato il dato nel formato senti nel safe che altro non è che di fatto una cartella zippata con una sua struttura anche piuttosto articolata ehm all'interno della cartella infatti abbiamo tutta una serie di eh dati oltre ovviamente alle alle immagini ehm che vengono distribuite in formato jpeg duemila abbiamo anche tutta una serie di eh file di eh file di metadati quindi con tutta una serie di informazioni accessorie legate ehm alla missione ma anche proprio a all'immagine stessa che è stata scaricata abbiamo una serie di indicatori di qualità e ehm soprattutto abbiamo eh alcuni dati ausiliari questi dati ausiliari in particolar modo possono variare tra livello 1c e livello 2a proprio perché insomma le caratteristiche stesse del livello 2a quindi il fatto di essere banalmente eh già già corretto ovviamente permette tutta una serie di elaborazioni che vengono fornite già all'utente come ad esempio la classificazione una prima classificazione dell'immagine e eh una maschera delle nuvole cerco di andare un po' più rapida perché il tempo scorre allora arriviamo ai plugin di QGIS esistono tutta una serie appunto di plugin all'interno di QGIS per il trattamento delle immagini Sentinel in particolare io ve ne cito due che sono quelli che eh tanto conosco meglio e eh probabilmente anche i più utili nel senso che ce n'è mi sembra ancora un altro che è stato sviluppato per un progetto di analisi forestale in Vietnam che però io francamente eh non sono riuscita ad utilizzare perché mh c'è qualche bacco insomma però di fatto questi sono i primi nati e quelli indubbiamente più utilizzati il primo appunto il Sentinel Hub che è stato sviluppato da questa azienda norvegese Sinergise spero di aver detto correttamente il nome e eh permette di scaricare direttamente dalla piattaforma Sentinel Hub che è un'altra piattaforma online appunto che si occupa di di dati Sentinel questa permette di scaricare alcuni prodotti derivati quindi indici spettrali beh composizioni di bande e e via dicendo e richiede naturalmente un account sulla piattaforma Sentinel Hub il plugin invece forse più più famoso ehm è il semi automatic classification plugin sviluppato da Luca Congedo che invece permette di scaricare le immagini Sentinel 2 utilizzando direttamente le api del scientific data hub quindi in questo caso è necessario ovviamente un account sul eh scientific data hub appunto di ESA il plugin è un plugin indubbiamente molto complesso non tanto dal punto di vista dell'utilizzo quanto soprattutto dal punto di vista ehm proprio del della quantità di di operazioni e di tool eh messi a disposizione da questo plugin ad esempio possiamo scaricare direttamente in QGIS non solo le immagini Sentinel eh due Sentinel tre ma anche dati Lensat dati Modis e Aster ci permette di fare ad esempio un po' di pre processamento delle immagini quindi ad esempio di applicare eh una correzione atmosferica eh permette appunto di creare immagini multibanda visualizzare diverse band composite fare classificazione di immagine calcolare filtri spettrali anche grazie a una sorta di calcolatore raster semplificato direttamente eh integrato all'interno del plugin e ci permette anche poi di andare a fare tutta una serie invece di operazioni di post processamento su eh le mappe create quindi ad esempio applicare filtri alla nostra classificazione ottenere la reportistica fare analisi di accuratezza e via dicendo per adesso ci occupiamo di capire come possiamo scaricare però le immagini Sentinel anche in questo caso ovviamente possiamo applicare tutta una serie di parametri per andare a scremare la nostra ricerca quindi possiamo ad esempio definire eh una bounding box direttamente nell'area di mappa di QGIS eh possiamo definire ovviamente una data di inizio e fine quindi un range temporale al quale ovviamente siamo interessati e anche qua eh limitare diciamo la la ricerca delle immagini a una certa percentuale di di copertura nuvolosa eh a differenza del scientific data hub che ci scarica quel pacchettozzo di dati eh di cui magari molti non non ci interessano neanche o quantomeno non non siamo interessati ad utilizzare il plugin eh scp ci scarica semplicemente le immagini delle bande in formato jpeg o geotiff vediamo poi eh perché l'uno piuttosto che l'altro e i principali file di metadati quindi semplicemente quei due tre xml che possono esserci utili per fare magari operazioni di altro tipo ehm come vi anticipavo già prima in fase di download possiamo andare ad applicare un primo pre processamento quindi andare ad applicare una correzione atmosferica oppure come vediamo qua nella slide ehm oltre alla correzione atmosferica andiamo anche ad applicare un fattore di scala quindi di fatto viene applicato questo fattore che è uguale a diecimila per i dati senti nel due ehm con il quale appunto i nostri valori vengono scalati e convertiti di fatto in valori fisici riportandoli in un range compreso fra zero e uno che è quello con cui di norma viene espressa la riflettanza per quanto riguarda la correzione atmosferica ovviamente qua si aprirebbe un mondo a parte diciamo però per rimanere sul plugin quello che possiamo andare a fare tramite il plugin è applicare una correzione atmosferica di tipo image based quindi la dos uno che quindi non richiede all'utente alcun tipo di informazione dal punto di vista atmosferico semplicemente appunto è una tecnica image based perché corregge l'immagine a partire dalle caratteristiche stesse dell'immagine in questo caso viene il il dos appunto ehm di fatto sottrae a tutti i valori della vostra immagine il il valore più basso di riflettanza che trova in quanto considerato eh interamente dovuto a disturbo atmosferico questo proprio in due parole per capire che cos'è questo tipo di 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 correzione atmosferica ehm una volta fatto questo quindi noi di fatto esco un attimo dalla presentazione e vado su QGIS abbiamo le nostre bande scaricate e corrette ok queste che vedete qua nella nella cartella sono appunto immagini che ho scaricato con il plugin ehm il plugin come vi dicevo vi scarica le immagini in formato JPEG 2000 se non applicate in fase di download il pre processamento se invece applicate in fase di download il pre processamento vi vengono scaricati di fatto dei dei geotiff ora mi carico al volo le bande e con un po' di pazienza forse è meglio farlo da qui scusate e allora due tendenzialmente per applicazioni di diciamo di di monitoraggio del territorio insomma applicazioni di questo tipo non vengono eh utilizzate le bande quelle a 60 metri che sono appunto quelle ehm dedicate diciamo a scopi più di tipo atmosferico ecco allora caricate le nostre ehm le nostre bande su ehm su QGIS lasciando il tempo ehm insomma di caricare siamo comunque davanti a file di una certa di una certa pesantezza eh una delle primissime operazioni che dobbiamo andare a fare è quella di creare un'immagine multispettrale quindi di fatto un'unica immagine composta da tutte le nostre bande infatti scaricando i dati Sentinel noi di fatto otteniamo un unico un file per ogni per ogni banda che viene infatti visualizzato in scala di grigi per fare questo ovviamente possiamo sempre servirci dei tool presenti all'interno del plugin scp quindi di fatto andare a creare un band set oppure ovviamente possiamo servirci dei comuni strumenti invece di QGIS quindi banalmente eh creare un virtual raster quindi da raster miscellane a crea virtual raster fondamentalmente ricordandoci in questo caso oppure un merge digital ricordandoci però in questo caso di eh utilizzare il parametro eh inserisci diciamo eh ogni file in una banda separata questo perché eh appunto in questo modo il merge ci permetterà di unire tutte le nostre bande in un unico file utilizzando invece il plugin scp molto semplice vado di fatto a selezionare tutte le mie bande e le aggiungo a quello che viene definito il mio band set le metto in ordine quindi ad esempio ehm sposto la banda 8a nella sua posizione corretta questo perché perché il plugin scp mi permette anche di impostare alcune caratteristiche diciamo eh a livello di di appunto lunghezza d'onda proprie del del satelliti dei satelliti senti nel due e quindi richiede appunto le bande in un determinato ordine una volta impostato il mio band set posso direttamente dallo strumento decidere se andarmi a creare un virtual raster o un un file vero e proprio ora in questo momento io l'ho già creato perché ovviamente sono operazioni eh che possono insomma richiedere anche un po' di tempo per cui vado a caricarmi il virtual raster risultante esattamente da questa da questa operazione e sempre con insomma i dovuti tempi di di caricamento per la visualizzazione dell'immagine ecco qua questo è quello che ottengo quindi intanto subito è evidente che intanto sono di fronte a un'immagine colorata e non in bianco e nero colorata perché perché ho in questo caso un'immagine un unico file quindi composto da tutte queste bande quindi in questo caso dieci bande i colori però diciamo non ci tornano tanto nel senso che buona parte della vegetazione sembra essere visualizzata in blu questo perché questo ci porta diciamo a una delle primissime operazioni di tipo diciamo più analitico che possiamo fare sulle immagini senti nel che sono appunto i band composite ovvero le combinazioni di bande nei tre canali rgb con cui i nostri schermi dei pc visualizzano appunto il colore cosa vuol dire fare un band composite vuol dire andare ad associare appunto ai tre canali con cui appunto viene di fatto mostrato il colore tramite il computer le nostre bande bande spettrali in questo caso ad esempio viene automaticamente associata alla banda del rosso la banda numero uno che però per quanto riguarda l'ordine delle bande delle immagini senti nel è il blu e poi viene associata alla banda del verde alla banda del verde la banda due che è effettivamente quella del verde mentre alla banda del al canale blu viene associata la banda numero tre che per senti nelle in realtà è la banda del rosso se io quindi vado a invertire quindi effettivamente associare la banda del rosso al canale rosso e la banda del blu al canale blu ottengo quella che viene comunemente definita una true color composite quindi una visualizzazione dell'immagine a colori naturali esistono una un sacco di possibili combinazioni di bande diciamo che le più le più famose sono ad esempio le false color composite che appunto permettono già da un'analisi visiva dell'immagine di trarre tutta una serie di informazioni ve ne mostro un paio di esempio se noi ad esempio andiamo ad associare al canale del rosso la banda del vicino infrarosso che è la numero sette e alla banda del verde al canale verde scusate la banda del rosso e al canale del blu la banda del verde otteniamo una visualizzazione molto insomma che immagino in molti di voi abbiate già già visto che è la near infrared band composite si tratta infatti di appunto una combinazione un po' particolare in cui di fatto la vegetazione appare in sfumature di rosso quindi da rosso più intenso a rosso meno intenso l'intensità di rosso che cosa ci dice ci dà preziose informazioni ad esempio sullo stato di salute di crescita delle piante infatti la vegetazione sana ad esempio a una a una fortissima riflessione nel in corrispondenza della band delle bande del vicino infrarosso per cui a altissimi valori di riflettanza proprio in quelle bande che in questo caso eh diciamo corrispondono quindi a alti valori numerici associati al canale del rosso quindi la vegetazione sana è quella che vediamo eh appunto in sfumature di rosso più accese e eh invece la le sfumature più diciamo più tenui eh possono appunto indicare uno stato di salute meno insomma meno vigoroso un'altra famosissima band composite è sempre per l'analisi della vegetazione è quella che combina la banda del dello swir quindi delle dell'infrarosso a onde corte la banda del nir e la banda del rosso dove anche qui in questo caso abbiamo invece la vegetazione che viene mostrata ehm diciamo viene rappresentata viene mostrata in sfumature di verde e anche qua il tono di verde ci dà eh un'indicazione sempre sul vigore vegetazionale sullo stato di sullo stato di crescita torno un attimo alle slide ehm questa ve la faccio semplicemente per questioni di tempo ve la faccio così vedere al volo si tratta anche questa di un'altra composizione molto famosa molto insomma io dico famosa ma perché si si vede spesso in giro è ovviamente che è l'atmospheric penetration che ad esempio non utilizza alcuna banda del visibile a differenza di quelle che abbiamo visto in precedenza e ehm utilizza semplicemente lo swir e il nir e ehm anche in questo caso la vegetazione eh ci dà alcune informazioni ad esempio su sempre lo stato di salute delle delle piante e in particolar modo eh la vegetazione in questo caso viene appunto mostrata in sfumature di blu ed è una delle composizioni che diciamo meglio ehm diciamo meglio riduce l'effetto dovuto al disturbo atmosferico proprio perché eh utilizza delle bande che sono in parte in grado di di penetrare questo questo disturbo ovviamente le immagini Sentinel possono essere mosaicate quindi si può andare a fare un mosaico di di immagini attenzione un po' alle dimensioni perché comunque si tratta di file molto pesanti quindi andando a fare mosaici molto estesi rischiamo appunto di raggiungere anche dimensioni notevoli e questa operazione come quelle viste fino adesso possiamo sempre farla o tramite strumenti del plugin scp o tramite gli strumenti di QGIS ovviamente possiamo esportare le nostre mappe o sempre tramite il plugin che come vi facevo vedere prima ha già la possibilità di esportare in virtual raster piuttosto che in geotiff oppure con il banalissimo salva con nome di QGIS consiglio che do è eh cercate di utilizzare ovviamente se è possibile i virtual raster che vi aiutano a mantenere dimensioni di file più contenute oppure eh un'altra diciamo eh ipotesi soprattutto se voleste utilizzare le vostre immagini sentine non tanto per le analisi ma magari come sfondo in un'applicazione web è quella di salvare queste immagini con l'opzione immagine visualizzata che praticamente vi salva una un'immagine eh RGB quindi con valori che vanno dallo zero al due al 255 molto più leggera ovviamente rispetto a eh all'immagine originale qua ad esempio vi ho messo ehm nell'immagine appunto eh il file dati grezzi di fatto è l'immagine multibanda in formato geotiff siamo intorno quasi ai 5 giga di di file abbiamo poi l'immagine visualizzata che è decisamente inferiore eh e poi abbiamo invece il virtual raster che ci permette effettivamente di mantenere eh dimensioni davvero molto molto contenute per questo tipo di dato velocissimamente così poi lascio spazio a voi ehm altra operazione ovviamente che può essere fatta su le varie bande delle nostre immagini sentine sono operazioni di tipo algebrico quindi la mappa algebra o tramite il calcolatore raster di QGIS o quello integrato nel plugin SCP e una delle operazioni più diciamo più più diffuse più anche più basiche diciamo è il calcolo degli indici spaziali immagino che molti di voi avranno sentito parlare delle NDVI che altro non è che la differenza normalizzata fra ehm la banda del vicino infrarosso e del rosso esistono ovviamente una miriade di indici a seconda ovviamente dello scopo e dell'informazione che si vuole trarre ve ne ho citati ad esempio altri due che hanno lo stesso identico nome ma in realtà ci eh restituiscono informazioni molto diverse perché il primo eh appunto è la di sempre la differenza normalizzata fra il vicino infrarosso e l'infrarosso a onde corte e ci restituisce informazioni sul contenuto di acqua delle foglie della vegetazione il secondo pur avendo lo stesso nome quindi sempre NDVI ehm ci fornisce invece informazioni relative al contenuto il contenuto d'acqua dei corpi idrici e consiste nella appunto differenza normalizzata sempre ehm tra il verde e il vicino infrarosso tendenzialmente tutti questi tutti questi indici hanno valori che oscillano appunto fra il meno uno e e uno ultima nota eh non solo QGIS nel senso che ovviamente QGIS non è l'ultimo strumento l'unico strumento con cui possiamo andare a gestire a trattare le nostre immagini Sentinel grass eh grass GIS ad esempio sempre in ambito open source naturalmente mette a disposizione un addon chiamato appunto i punto Sentinel ehm che include tutta una serie di strumenti tra cui i Sentinel download appunto per il download delle immagini e i Sentinel import per importare all'interno del database grass ehm le le immagini delle bande e poi ehm i Sentinel pre-proach e i Sentinel mask che eh rispettivamente applicano tutta una serie di correzioni e di eh operazioni di pre-processamento mentre i Sentinel mask ehm appunto permette la la detection e il calcolo automatico di maschere di nuvole e relative ombre sulle immagini Sentinel 2 e eh così nota questi ultimi due moduli sono stati sviluppati appunto nell'ambito del dottorato di del mio dottorato di ricerca ehm e soprattutto nell'ambito del Google Summer of Code ma questo è giusto una nota così informativa. Io ho concluso eh vi ho insomma direi bombardato abbastanza di informazioni e lascio volentieri a voi la la parola nel caso aveste domande, curiosità o anche semplicemente una vostra esperienza da da raccontarci. intanto ovviamente prego. Sì ciao ciao scusa sono Francesco eh grazie intanto per la eh chiara e sostiva eh presentazione. Io volevo purtroppo faccio sempre questa domanda ai vostri geobreak eh riguardo la licenza di questi dati eh cioè l'util c'è scritto che sono gratuiti ma quindi l'utilizzo di questi dati fare anche per la diciamo produzione di eventuali prodotti commerciali? Assolutamente direi di sì 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 ci sono fior fior di aziende che usano eh i dati Sentinel per eh scopi commerciali cioè da dalla pubblicazione applicazione dalla creazione di altri portali da cui è possibile scaricare le mappe eh addirittura creazioni di immagini artistiche eh cioè quindi direi direi di sì ora sinceramente la licenza specifica eh insomma grossi dettagli in più non te li so dare però ehm sì direi che sono assolutamente utilizzabili ecco cioè non è che non sono dati scaricabili solo per scopi scientifici o accademici ecco. Ok e poi invece una curiosità eh non so se voi avete mai provato a fare eh test di change detection sull'edificato tramite i dati Sentinel. Allora di change detection sull'edificato io eh avevo seguito in realtà una tesi di una ragazza eh che che aveva fatto insomma un po' di test di questo tipo ovviamente quello che puoi fare su delle immagini Sentinel è un tipo di change detection abbastanza a larga scala mi viene da dire nel senso che ovviamente se faccio un esempio se il signor Rossi si si costruisce che so il pollaio abusivo in giardino non 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 riesce ad arrivare diciamo a un livello di dettaglio tale però se tu avessi bisogno ad esempio di fare un un'analisi di change detection sul consumo di suolo quindi ad esempio sull'espansione anche di di una città ok quello assolutamente assolutamente sì ok grazie a te buongiorno Roberta sono Valeria ciao Valeria ciao mi riaggancio al discorso che faceva il collega di prima forse me lo sono perso perché avevo un collegamento un po' ballerino questa mattina che risoluzione al suolo hanno queste immagini? cioè che tipo di operazioni posso fare tu sai cosa facciamo noi e quello che interessa a me in particolare vabbè lo stato delle strade delle fra delle frane a parte l'edificato eccetera e quindi mi interessava la risoluzione al suolo allora come risoluzione al suolo ai 10 metri quindi un pixel 10x10 per quanto riguarda le bande del visibile quindi rgb e l'infrarosso che tra l'altro nell'ottica frane l'infrarosso potrebbe essere molto utile perché ad esempio se c'è stato diciamo un crollo di vegetazione ovviamente quello lo trovi subito e poi invece abbiamo 20 metri per le bande sempre più o meno in corrispondenza del vicino infrarosso e dell'infrarosso onde corte e anche lì l'infrarosso onde corte sempre nell'ottica frane è molto utile perché è proprio un po sono un po le bande dedicate al suolo proprio al suolo nudo e poi vabbè invece abbiamo i 60 metri delle tre bande atmosferiche che però ovviamente quelle per per il vostro tipo di attività non sono non sono diciamo particolarmente utili nell'ambito così dell'infrastruttura stradale vale un po lo stesso discorso degli edifici cioè se di certo non vedi la cartellonistica di certo non riesci magari a distinguere la stradina locale cioè nel senso interna al nucleo urbano che ma sicuramente diciamo appunto viabilità un po più importante quindi strade anche solo che provinciali statali autostrade riesci a visualizzarle perfettamente addirittura riesce a vedere anche le macchinine praticamente in movimento e sicuramente riesce a fare un tipo di analisi su tutto quello che è il contesto in cui magari si inserisce la tua infrastruttura stradale quindi riesci magari a fare detection automatica che so di zone incendiate che magari insistono sulla struttura sulla sull'infrastruttura frane cose di questo tipo inondazioni allagamenti ecco questo sì ok grazie mille a te intanto se in attesa di altre domande vi lascio ovviamente il le informazioni sul prossimo appuntamento durante il quale torneremo a parlare di gnss in particolare di della libreria rtk lib per il post processing e vi lascio ovviamente i miei riferimenti per cui se poi insomma avete curiosità o avete piacere magari di approfondire qualcosa degli argomenti trattati oggi mi rendo conto che insomma ho detto tanto e insomma sono argomenti che richiederebbero anche trattazioni ben più lunghe però insomma ho cercato di darvi spero di essere riuscita a darvi una buona inquadratura dell'argomento e però appunto se avete bisogno di ulteriori approfondimenti vi lascio naturalmente i miei contatti e per rimanere ovviamente aggiornati su sui nostri geobreak ma anche un po' su tutte le attività di digiter vi lascio come sempre il collegamento al nostro canale telegram ci sono altre domande curiosità non mi sono più di tanto addentrata nella problematica delle delle nuvole che vi ho a malapena accennato però se se è di interesse ovviamente per per qualcuno potremo anche magari pensare a un geobreak geobreak dedicato è ovviamente un argomento che mi sta molto a cuore avendoci dedicato tre anni dalla mia vita vedo in chat effettivamente è un argomento molto molto complesso diciamo che su ogni punto toccato praticamente ci starebbe quasi un geobreak a sé però insomma insomma mi fa piacere se però la sintesi quantomeno è stata è stata chiara ecco va bene se non ci sono direi altre domande io vi saluto vi ringrazio ovviamente per aver seguito questo geobreak e vi ovviamente invito a seguire quello di mercoledì 29 luglio che sarà diciamo l'ultimo prima di una breve pausa estiva infatti i nostri geobreak nel mese di agosto si si interromperanno e e ci ritroveremo poi a settembre con nuovi appuntamenti grazie ancora e buona giornata a tutti e buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti